Operazione Sicurezza. Le forze dell'ordine entrano in azione a Vicenza, nelle zone dove l'allarme sociale è più alto. Ponte degli Angeli, Via Rattazzi, Via Muttoni e Campomarzo, dove sono stati segnalati dai cittadini personaggi molesti che tengono comportamenti incivili e a volte pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Controlli anche in Piazza Matteotti, nel quadrilatero della stazione, e in Centro Storico, dove durante il pomeriggio e la sera sono stati segnalati soggetti che, con comportamenti prevaricatori, infastidiscono i residenti e i passanti, danneggiando i commercianti della zona. Questi personaggi, intenti a bivaccare sulle panchine e a consumare alcolici, sono stati identificati e allontanati da Vicenza con provvedimenti firmati dal questore. In tutto, le forze dell'ordine hanno controllato 47 veicoli e 81 persone, di cui 33 straniere e 27 con precedenti penali o di polizia. Nel complesso, il questore ha firmato quattro avvisi orali nei confronti di italiani e stranieri con precedenti, tre fogli di via obbligatori nei confronti di personaggi ritenuti socialmente pericolosi e che non vivono a Vicenza, e quattro decreti di allontanamento dall'Italia verso extracomunitari irregolari sul territorio nazionale e con a proprio carico pregiudizi penali o di polizia. Effettuati gli accertamenti da parte dell'Ufficio Immigrazione, gli è stato ordinato di lasciare entro sette giorni l'Italia, se non rispetteranno l'ordine e fossero ritrovati in Italia, scaduti i termini verranno denunciati e accompagnati coattivamente nel loro paese d'origine. Noi sistematicamente, d'accordo e comunque in collaborazione con tutte le altre forze dell'ordine, effettuiamo questi servizi più volte alla settimana proprio per garantire la tranquillità della vita urbana e per far sì che fenomeni delinquenziali di illegalità vengano stroncati sul nascere. Proprio per questo motivo colgo questa occasione per ringraziare la cittadinanza che molto spesso con le sue segnalazioni, nell'ottica di questo concetto di sicurezza partecipata che è assai importante, ci fa capire, ci segnala, ci fa presente delle situazioni di degrado e comunque delle situazioni di illegalità sulle quali noi possiamo intervenire prontamente. Grazie.